L'uomo di Neandertal, o uomo di Neandertal, è un ominide che ha seguito un percorso evolutivo parallelo al nostro, Homo sapiens. Ha vissuto tra 200.000 e 40.000 anni fa e ha avuto più volte collisioni con altre specie di ominidi, risultando alla fine sconfitto. Ancora oggi non è chiaro come tutta la specie degli uomo neandertalensi si sia estinta e ci sono numerose teorie in discussione. Una corrente di pensiero suggerisce che i Neandertal e gli Sapiens siano entrati in competizione per i territori di caccia e che gli Sapiens abbiano sterminato i concorrenti. Altri credono semplicemente che i Neandertal fossero meno evoluti, nonostante avessero un cranio più grande, e che non siano riusciti ad adattarsi come noi, non cambiando la loro dieta, non sfruttando armi migliori, non inventando nuovi metodi di caccia, di rifugio e di società. Infine, c'è chi ritiene che gli Sapiens abbiano portato tra i Neandertal virus e malattie letali che li hanno portati all'estinzione. È un dato di fatto che ci siano state molte ibridazioni tra Homo neandertalensis e Homo sapiens tra gli 80.000 e i 50.000 anni fa. Ciò è dimostrato dal fatto che nel DNA degli umani contemporanei ci sia una percentuale di materiale genetico puramente Neandertaliano, che varia dall'1% al 4%. Questo significa che, almeno in teoria, nel corso dei secoli potrebbe essersi verificato il nascere di un essere umano con l'aspetto e le caratteristiche dei nostri cugini estinti, o che potrebbe ancora accadere, chissà quando. Un caso che ha suscitato molte discussioni è quello di Azo Basu, un individuo che sembrava avere l'aspetto tipico di un Neandertal. Se Azo non fosse stato fotografato e se non ci fossero documenti storici, studi di associazioni e uomini illustri, sicuramente la sua esistenza sarebbe messa in discussione dagli scienziati, proprio come accade con il Bigfoot, il megalodonte e il mostro di Loch Ness. Tutto ha avuto inizio nel 1931, quando in Marocco, poco sopra Marrakesh, alcuni archeologi vennero a conoscenza delle voci provenienti dalle tribù locali riguardo a una creatura fuori dal normal. Inizialmente, i capi tribù erano resti a parlarne, ma i coloni provenienti dall'Europa riuscirono a convincerli portando doni e furono così in grado di ottenere informazioni sul luogo in cui abitava questa strana creatura. Azo Basu, un essere misterioso e affascinante, è stato avvistato nelle vicinanze di una caverna. Tuttavia, al sopraggiungere dei curiosi, sfuggiva velocemente, rendendo difficile avvicinarlo. La prima spedizione che ha tentato di localizzarlo ha descritto una figura simile a un uomo, alto circa 1,60 metri, ma deforme sia nel viso che nel corpo. Molte testimonianze sostengono di averlo visto cibarsi di carne cruda e utilizzare utensili primitivi come pietre appuntite, bastoni e giacigli di erba secca. Le sue caratteristiche fisiche erano completamente diverse da quelle di qualsiasi gruppo etnico conosciuto. Aveva una fronte sfuggente, un naso largo e un mento sporgente. Indossava pochi o nessun indumento e, nelle notti più fredde, si copriva con rami di palma. Pur suscitando curiosità, in quel periodo la scienza era maggiormente interessata agli scavi archeologici e, nonostante il clamore causato dalla scoperta di Azo Basu, fino al 1956 nessuno si preoccupò di approfondire l'argomento. Informazioni più precise su Azo Basu sono state fornite dallo scrittore francese Jean Boulet. Durante la sua visita nella Valle d'Udadesa alla ricerca di informazioni su questo primate armato di macchina fotografica, ha scoperto che era ancora vivo ed è riuscito a scattare alcune foto. Nel 1970, l'Associazione degli Studi Preistorici Internazionali ha organizzato una spedizione per indagare sulla questione di Azo. Un gruppo italiano, guidato da Mario Zanot, si è avventurato nel Sahara alla ricerca dell'oasi di Sidi Fenla. Anche in quel caso, trovare un capotribù disposto a parlare dell'ominide non è stato facile, poiché la caverna in cui Azo si era stabilito era considerata sacra. Tuttavia, Zanot è riuscito a guadagnare la fiducia del capotribù, il quale ha confermato la maggior parte delle informazioni fornite dalla prima spedizione entrata in contatto con l'ominide. Azo era un individuo molto curioso e girava nudo, usando solo attrezzi rudimentali. Molti hanno cercato di instaurare un dialogo con lui, ma si esprimeva con suoni gutturali incomprensibili e non amava la compagnia degli altri. Il capotribù ha anche informato il gruppo di esploratori che Azo era morto negli anni Sessante e che era stato sepulto nella caverna in cui aveva vissuto per tutta la vita. Il capotribù ha mostrato il luogo di sepoltura di Azo, ma ha vietato di scavare in quel luogo sacro. Nonostante la morte di Azo, il capotribù ha indirizzato il gruppo di ricerca italiano verso due donne, che sosteniva fossero le ultime parenti di Azo, le sorelle Isa e Erkaya, tenute come schiave in un'oasi poco distante. Nel 1971 Peter Colosima ha pubblicato foto delle donne e la somiglianza con Azo era impressionante. Il caso di Azo Basu ha suscitato molte discussioni e, fino ad oggi, i suoi resti non sono stati recuperati a causa del divieto da parte delle tribù locali di effettuare scavi. Fino ad ora, Azo Basu ha portato con sé il segreto delle sue origini nella tomba, ma molti credano che sia stato l'ultimo uomo di Neandertal sulla Terra.